Noi abbiamo bisogno di comunicazione, i ragazzi hanno bisogno di comunicare e queste sono realtà comunicative, realtà che servono a tutti per raccogliere informazioni e esigenze da parte dei ragazzi e che lo sport con la legalità hanno un binomio assolutamente importante e indissolubile. Quindi strumento di comunicazione reciproco con la partecipazione attiva delle nostre Fiamme Oro Rugby che sono rappresentanti tecnici di questo comparto della Polizia di Stato che si sono prestati a questa giornata veramente meravigliosa, una giornata in cui si vedranno i ragazzi protagonisti di legalità attraverso lo sport. Le regole della Polizia del gruppo sportivo Fiamme Oro sta andando molto bene, abbiamo una squadra giovane che milita nella campionata di serie A Elite che sarebbe la massima serie del campionato di rugby, abbiamo un importante settore giovanile con 350 ragazzi e squadre Elite nelle giovanili, ma soprattutto lavoriamo molto nel sociale, quindi l'inclusione e portare i ragazzi dalla strada e attraverso lo sport dargli una possibilità di socializzazione e di educazione alla vita che è quello che poi serve come imprinting da parte dell'istituzione della Polizia di Stato che non è soltanto sport o repressione, ma anche educazione e vicinanza alla società civile.